Colori, luci e la magica atmosfera delle festività natalizie ci accompagnano tra speranze, desideri e sogni. Il sogno di sfidare la paura tutti i giorni, tutte le notti, a tutte le ore, di portare il soccorso lì dove è necessario, proprio come un vero vigile del fuoco. A volte i sogni si materializzano, diventano pura realtà ed è allora che con rispetto, con coraggio Forza e determinazione, si compie l'operato del corpo dello Stato più amato dagli italiani. I vigili del fuoco, tra la gente, per la gente